La Calabria è stata eletta come la più bella regione al mondo dall'ultima edizione di Best Region Awards 2016? Per quanto possiamo amare e ammirare le bellezze della nostra regione, forse qualche perplessità illecita. Soprattutto perché pare che lo stesso premio sia stato vinto anche dalla Campania il mese scorso. A diffondere la notizia, un blog, giornale informativo. Navigando tra le sue pagine, già a un primo sguardo si capisce che l'ironia è tra i diktat del sito. Diverse però le testate che ci sono cascate, pubblicandola a loro volta sulle loro pagine e portali, anche perché sarebbe stata sostenuta anche da alcune dichiarazioni del ministro all'economia Piercarlo Padoan, pubblicate all'interno dell'articolo. Pezzo che, dicevamo, era stato pubblicato totalmente identico circa un mese fa, riferito però alla Campania. Proprio questa mattina un quotidiano regionale ha riportato la notizia. Finché ci casca un organo di informazione può anche passare. Ammetto che questa mattina leggendola ci ho creduto anche io, ma pare che ad abboccare quella che tutti gli effetti pare una bufala sia stato anche il governatore calabrese Mario Oliverio. Il presidente regionale, infatti, ha dato l'annuncio del riconoscimento a margine dell'incontro pubblico di ieri sera a Siderno, al quale ha partecipato il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna Madia, in vista del referendum costituzionale. Oliverio ha letto in pubblico un sms in cui veniva informato della notizia, da qui ha avuto seguito un applauso entusiasta. Sarebbe stata infatti una notizia sensazionale per la nostra regione, a livello pubblicitario, turistico, di immagine istituzionale e internazionale. Però, ahimè, è bastato fare un giro sul sito di National Geographic per vederla immediatamente smentita. Notizia che, inoltre, non risulta essere vera nemmeno al magazine italiano della fondazione. Una bufala è bella e buona, quindi. Oliverio, dunque, è stato tratto in inganno, ma non lo biasimiamo. La Calabria, ma così anche la Campania, meriterebbero riconoscimenti simili, se non altro per le immense bellezze che contengono, ma che purtroppo sono poco o per niente valorizzate. Quindi no, per quanto ci farebbe piacere, la Calabria non ha vinto il Best Region Awards 2016, se esiste. Grazie a tutti.